Torna percorribile interamente la Statale 19 anche nel tratto Caggiano-Buccino. Stamane l'ANAS, dopo il viadotto Acquarulo sulla Cilentana, ha riaperto al traffico il ponte Massavetere, situato nel territorio del comune di Caggiano, agevolando gli spostamenti delle festività pasquali anche lungo quest'altro lato del territorio a sud di Salerno. Sul ponte Massavetere, chiuso da dieci mesi, si circolerà a senzionico alternato, così come sul ponte Ficarola, riaperto al transito già dallo scorso mese di febbraio. Le attività sul terzo ponte, oggetto del progetto di messa in sicurezza e il Calibri, sono state invece programmate soltanto a partire dall'ultima azione dei lavori principali sugli altri due ponti per non gravare sulla circolazione dell'area. Per questo, almeno per il momento, l'intera tratta stradale è percorribile ad esclusione dei veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate, che potranno transitare solo quando si completeranno tutti gli interventi. L'obiettivo finale, infatti, è quello di innalzare la sicurezza e la percorribilità della strada, eliminando proprio la limitazione al transito fino ad oggi prevista per i mezzi pesanti. L'apertura è stata salutata con soddisfazione dal sindaco di Caggiano Modesto la mattina. È un'ottima notizia per i nostri cittadini e per tutto il comprensorio. Ora, per l'estate, la circolazione sarà garantita. A settembre, invece, verrà nuovamente interdetto il ponte Massavetere per le attività di sostituzione degli appoggi con innalzamento dell'impalcato, la cui durata è stimata in circa 45 giorni. L'investimento complessivo è stato di 11 milioni di euro.